Il 21 novembre si celebra la giornata nazionale degli alberi, promossa per valorizzare gli alberi e il loro ruolo nell'ecosistema. A Caltanissetta il 20 novembre si terrà la piantumazione di 40 alberi nell'orto sociale di Via Angeli, coinvolgendo scuole e associazioni locali. Il 21 novembre al Parco Urbano Rosario Assunto verranno piantati olivi simbolici per i bambini nati nel 2024, in linea con una legge che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuova nascita. L'evento è aperto a tutti i cittadini e segna l'avvio di iniziative per la riqualificazione del verde urbano. Inoltre, per l'occasione, la regione siciliana donerà alle scuole siciliane dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado 5.300 alberelli di olivo, simbolo di pazio e identità siciliana.